Salome a tutti, l'Alterebbe ha interpretato il detto dei nostri saggi, chiunque salva un'anima ebraica è come che ha salvato un mondo intero. Cosa significa questo? Salome a tutti, l'Alterebbe ha detto, uno deve percepire e visualizzare un ebreo come che la sua anima è radicata in Adam Kadmon, nel pensiero supremo di Dio. Lì ogni anima è già tutto pianificato con tutte le generazioni che ci saranno da questa anima, le generazioni, le generazioni, le generazioni, le generazioni, fino all'arrivo del Mashiach. E dunque quando tu vedi davanti a te un ebreo che ha bisogno di aiuto, non devi pensare solo a lui, ma devi pensare a lui e a tutti i suoi discendenti che ci saranno fino alla venuta di Mashiach e dunque guardarlo con un'ottica diversa. e quando gli fai un favore, non stai prendendo un favore solo, ma stai facendo un favore a tutto un ramo del popolo in un certo senso. Salome a tutti. 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 Grazie a tutti.